particolare e l'unico posto dove funziona un po' è al servizio dell'industria, perché l'industria ha capito che con una certa arte si può far profitto, così come ha fatto profitto la Chiesa, così come hanno fatto profitto grandi politici, grandi uomini di Stato. Lorenzo il Magnifico, chi utilizzava? È passata la storia per cosa? Cosa ha fatto Lorenzo Magnifico? Tu dicono gli artisti, chi sono i Lorenzo Magnifici di adesso? Bene, adesso esiste l'industria, il mercato, tutti lavoriamo per il mercato, per un mercato o per un contromercato, però io personalmente non considero il mercato solamente quello spazio economico, finanziario, ma lo considero un posto dove si va, ci si incontra, dove ci si tocca, dove ci si ama, dove si discute, dove ci si bacia, dove si fa la guerra, se il mercato comincia a diventare grandi, mi avete capito? Quindi l'arte è al servizio di questo, non c'è niente a fare per questo potere o per un contropotere che comunque ha a che fare coi mercato. Non ci si può sottrarre a questo fatto. Allora bisogna capire come funziona questo sistema. Io personalmente ho capito che l'unico modo per avere la mia libertà espressiva durante tutti gli anni di lavoro. Era prima regola, arricchire il tuo committente. Penso che anche i grandi pittori, prima regola, gli facevano delle madonne, dei cristi fantastici e questi erano contentissimi perché quelle immagini, allora non c'erano giornali, televisioni, la gente entrava in chiesa e pensate un po', che incredibile vedere questa grandezza, questi colori, questi corpi, queste nudità che poi venivano braghettate da chi poi come lo IAP censura ancora adesso. Lo IAP è l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, sono dei geni del premio Nobel. Allora, entravano e vedevano queste cose. Bene, adesso è ancora uguale, è uguale. Ci impressioniamo e ci vogliamo impressionare con le immagini. L'immagine è la nostra ispirazione, non a caso. Ci sono anche dei grossi drammi per questo. Avete visto la mia foto dell'anoressia? A cosa si ispirano le ragazzine di quell'età? A delle immagini. Quindi, la Cappella Sistina. C'è questa responsabilità, che non ce l'ha quello che fa le quattro belle dodici fotografie artistiche, le mette sul muro e non le vuole avere neanche. La fotografia vera è per quello che io mi dicono come mai fare il cinema? No, non mi interessa il cinema, è molto più facile fare il cinema. Il cinema è una storia con dei risultati, deve avere un'opinione finale. La fotografia no, la fotografia è un film che ognuno di noi fa quando la guarda. Ognuno di noi mette in moto la propria coscienza, ingaggia la propria responsabilità di fronte alla fotografia ferma, fissa. E io come la penso? Perché io? Perché mi piace? Perché non mi piace? E tutto questo con l'estetica, con l'etica, con la morale e con tutto quello che serve per togliere, 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 finché si arriva a fotografare solamente quel dettaglio per raccontare una storia grandiosa. Allora, vediamo se questo gioco che stiamo facendo funziona. Abbiamo trattato il mercato. Naturalmente queste posizioni che stai elencando sono posizioni ed è il motivo per cui poi ormai abbastanza anni fa a me è parso che fosse molto interessante parlare di Toscani e oltretutto servirsi di Toscani proprio per controbattere e criticare alcuni luoghi comuni, stereotipi presenti molto anche nelle discipline scientifiche. Molte delle cose che ci ha detto Toscani adesso non sono molto condivise né dal pensiero filosofico né dal pensiero politico né nella conversazione comune dai indicatori che assumiamo per dire questa è una posizione critica. Insomma, esprime se nei termini in cui si è espresso Toscani ci vuole del coraggio che è una delle caratteristiche di Toscani, no? Di provocarci. È un pezzo, me l'ho offerto questo libro, io non l'avevo letto a suo tempo, di Francesco Merlo nel 2005 che sostiene una tesi un po' cattivella che è quella di dire ma diciamo il linguaggio di Toscani, l'opera di Toscani funziona finché c'è qualcuno che si scandalizza. Io non sono convinto di questo. Sono convinto che certo gli ha funzionato molto bene lo scandalo. Ma ripeto, questa semmai è una caratteristica squisitamente artistica legata alle vanguardie storiche. Lo sciocco, lo sciocco. È quello il momento in cui la tradizione d'arte entra nelle dinamiche di mercato e di consumo e quindi è evidente che siamo perfettamente in quella tradizione. Secondo me in Toscani invece c'è proprio un pensiero, un pensiero che funziona all'interno di tutte le cose che fa in diverso modo, con diversi risultati ed è un pensiero profondamente trasgressivo nei confronti del sapere corrente. Ecco, questo a me affascina molto di Toscani. E compreso quello naturalmente dei pubblicitari. Perché uno potrebbe dire, bene, se è così allora appunto sanna la pubblicità. Seguela, in reazione alla foto, che anche questa ricorderete molto bene, della divisa militare insanguinata di un soldato bosniaco con il foro del proiettile, eccetera, che sollevò delle critiche molto aspre, un giudizio sempre del giurì. Io abborro anch'io il giurì, ci sono capitato un paio di volte, e devo dire, è atroce. C'è tutto il peggio del pensiero estetico e del pensiero giuridico. Scimmiottato naturalmente, perché poi è un po' una farsa al giurì della pubblicità, e quindi tremendo. Però appunto lo definì quel manifesto sleale verso i consumatori e cinico verso le vittime della guerra. E arrivò un attacco di Jacques Segelà, voi sapete che Jacques Segelà è un gran teorico della pubblicità, che invitava appunto Benetton a riprendersi il suo marchio. Quindi le tesi di Toscani sono molto provocatorie anche per quello che riguarda il regime di senso, i codici, i canoni, diciamo, della pubblicità. C'è un altro aspetto che a me affascina molto di Toscani, che è quello di essere... potrei porvela in questo modo. Ritenete Toscani un progressista? Ecco, credo che Toscani non sia un progressista. Nel senso che è quello che i progressisti chiamano un conservatore. Però pensateci un momento bene. Tutto il meglio della satira, della trasgressività, del pensiero trasgressivo, eccetera, è nato sempre non all'interno della tradizione progressista, ma all'interno di una tradizione, di una tradizione forte. Io penso che questo sia molto interessante, perché ci potrebbe orientare, diciamo, a valutare poi tutto il suo lavoro. Tra questi rifiuti, diciamo, del pensiero progressista, spicca, per esempio, un giudizio diverso da quello corrente. Lo dico perché siamo in celebrazioni del 68, che è il giudizio sul 68. Toscani, devo sinceramente dire, anch'io in larga misura, non ama quella che è stata l'ideologia del 68, che è l'ideologizzazione, diciamo, del 68, e che è quello che tra l'altro è stato celebrato in questi, in questi, insomma, in questo, in questo anno. Ma la parte che mi ha, che ritengo possa essere ricordata qui e che a vedere sempre con questo, io trovo molto bello il fatto che questa manifestazione sia stata, sia stata intitolata umano, troppo umano. Mi sembra straordinariamente ricca di senso, mi compiaccio per chi l'ha scelto e l'ha proposto. Perché c'è un aspetto di Toscani molto chiaro, esplicitato, molto spesso, che riassumo con piccole citazioni qui. Siamo alla ricerca disperata di qualcuno che ci sollevi dai sensi di colpa. Insomma, c'è un Toscani moralista, nel senso tradizionale del termine, ovviamente sapete che la parola moralista può essere segno del peggiore disprezzo per il bacchettone, invece possa essere il riconoscimento di alcune teste che nella storia della civiltà occidentale hanno saputo leggere i fenomeni umani, i fenomeni della società. Toscani è un moralista in questo senso, cioè, per esempio, sottolinea molto l'ipocrisia, diciamo, di coloro i quali si mettono all'esterno degli aspetti negativi della società. Siamo tutti completamente responsabili del mondo che c'è. Questo, tenete conto, che comporta cose che non è, diciamo, la gravità dei temi che ci solliciterebbe a discutere i toscani, non è adatta magari a questa cornice così di conversazione e serale, però, per esempio, comporterebbe una grande riflessione su tutti i temi della globalizzazione, cioè il giudizio da esprimere nei confronti della globalizzazione. Quindi Toscani è un moralista che denuncia molto spesso quelli che gli sembrano, si può discutere poi la sua tesi, ma che a lui sembrano dei moralismi. Quindi è un moralista che coglie la quantità di moralismi che molto spesso noi esprimiamo in grandi fenomeni come sono quelli, appunto, relativi a no global, globalizzazione, eccetera. E, insomma, questo è importante, credo che sia importante, soprattutto avere occasione di discutere questi temi da questo punto di vista, proprio in una cultura, diciamo, democratica, una cultura che ha maturato un certo punto di vista sul mondo che molto spesso, appunto, come dire, troppo rapidamente, troppo rapidamente si fa prendere la mano dal moralista, no, dal moralismo, scusatemi, invece che assumere un punto di vista da moralista.